Un anno dopo Gaza è ancora in macerie. I materiali per la ricostruzione scherseggiano. Quelli che Israele consente di fare entrare non sono accessibili alle tasche dei palestinesi. Oltre 18.000 alle abitazioni distrutte, 100.000 agli sfollati. Un anno fa Israele lanciava l'operazione Protective Edge in seguito all'uccisione di tre adolescenti. Il conflitto, il terzo in sei anni, ha ridotto le capacità militari di Hamas ed è costato la vita ad oltre 2.200 palestinesi, tra i quali centinaia di bambini. 10.000 ai feriti. Se il bilancio è meno pesante sul fronte israeliano, resta comunque doloroso. 73 morti, di cui 67 militari. Un anno dopo le ferite dell'ennesima guerra israelo-palestinese, che dura quasi due mesi, sono sotto gli occhi del mondo. Rispetto a un anno fa niente è cambiato. I finanziamenti promessi dai donatori internazionali nel corso della conferenza, organizzata in tutta fretta al Cairo, nell'autunno scorso, arrivano con il contagocce. Nella striscia la situazione è preoccupante per le organizzazioni umanitarie. 1.800.000 persone convivono in 362 km2. Il tasso di disoccupazione è il 40% e uno dei più alti al mondo. Tra i giovani, i senza lavoro, sono il 60%. Altro risultato disatteso, la riconciliazione delle formazioni palestinesi. Il governo tecnico che Hamas e Fatah avevano deciso di costituire a Gaza nell'aprile del 2014, non ha preso piede. Gli appelli all'unità rimangono inascoltati. Il vero risultato, a un anno dalla guerra, è che è difficile sconfiggere Gaza o Hamas, cosa che fa sì che tutti gli attori internazionali siano interessati al mantenimento di una tregua e lo spetro della guerra a legge ancora su di noi. L'emergenza ISIS e lo Stato islamico interessato a insediarsi nella striscia di Gaza potrebbe paradossalmente rilanciare il dialogo israelo-palestinese. Israele infatti preferisce dialogare con un nemico conosciuto, tanto che ha ripreso gli scambi negoziali con Hamas. I negoziati, condotti segrettamente, vertono su una lunga tregua di qualche anno.